Buonasera, quest'anno vi aiutiamo al minimo sketch di questa voce e a chi viene qua arrivo allo stadio IF. Sono la piattaforma di questo sketch, una momentanea della mia app di bune, IF. E se siete con l'ultimo sketch di questa sera qui sul palco, per voi, IF. Perfetto! So, grazie a tutti e tutti e voi andiamo alla prossima del top nine, per mi è il primo stage, per il primo, per il primo. chi pagò solo del pretendo la violenza? chi pagò solo del pretendo a chi svelte avrà la prima? lì da bitto lì da bitto lì dì dì lì dì lì da bitto lì da bitto lì dì dì lì da bitto lì da bitto lì dì 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 Il nostro corso gratuito è un bel tipo di caratteri. Grazie. 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 Ja, ja, ja. Grazie. Grazie a tutti.